tipici ardaulesi. Allora sindaco questo presipio si distingue un po' perché? Perché è fatto sia con delle statue, con i costumi proprio fatti col broccato, con alcune... sono stati usati dei tessuti anche legati alla tradizione ardaulese. E poi ci sono tutti i tipi che nelle case si trovavano in questo periodo. Quindi le pere, queste qua le pere di Santa Caterina, a sinistra la mela grana, mela cotogne, perette, mele, anche l'uva passa, le spighe e poi le uova, le favette, ecco molto bello, molto bello. Grazie. Grazie.